Luigi Rizzo, responsabile Hilt & Safety Executive, datore di lavoro per Acquadotto Pugliese. Organizzare il sistema della salute e sicurezza dei lavoratori vigilando nell'applicazione di quanto stabilito. Hashtag organizzo il mio tempo, cioè organizzo la giornata lavorativa definendo degli obiettivi per poter dedicare il giusto tempo al lavoro ma senza dimenticare il tempo per me stesso e la mia famiglia. Guardare in avanti come se stessimo in una barca a vela per poter tracciare la rotta da seguire. Hashtag essere se stessi, non avere ipocrisie, dimostrare quello che si è senza attravestimento. Costanza, impegno, lungimiranza. Formalità, non è un difetto, mi viene appreso come tale. I nipoti e barca a vela. Ciao a tutti!